Bella a tutti ragazzi, sciocari! Benvenuti e bentornati ragazzi, benvenuti ragazzi, benvenuti, scusateli ecco però in questa casa dove sto a Lucca l'audio è un po' una merda e quindi ragazzi benvenuti, quindi ricordatevi di iscrivervi al canale, attivare la campanella, mettere like, commentare, fa tutto il coso che dovete farei sempre, lo sapete già ragazzi, lo sapete quindi come avete letto dal titolo ragazzi, come avete letto, oggi ragazzi vi faccio vedere come c'è sembriaca a Lucca con questo speciale video di Lucca Saturday Night non lo so, l'ho detto bene ragazzi, quindi andiamo subito a Embriacasse e vi faccio vedere un po' com'è che la situation di sabato sera di notte a Lucca e vediamo ad Embriacasse un po', vi faccio vedere quello che non si vede del solito del giorno, oltre ai cosplay e le cose la sera nella famosissima piazza anfiteatro e nelle vie intorno, come la situation di Saturday Night, ragazzi! Benvenuti in Kiwi! E quindi ragazzi, questa è piazza anfiteatro e questo è il mio primo drink in Long Island, ragazzi! Questa è tutta la gente che ci sta a piazza anfiteatro e che siamo pronti tutti a Embriacasse E questa ragazzi è piazza anfiteatro pienissima di gente, ragazzi, piena di gente, dei cosplayer dove si embriagano, bevono, drink, birra, cocktail e tutta roba varia e pienissima di gente, infatti ora ragazzi, vi faccio vedere com'è la situazione e poi se vedete quella cosa là in fondo, quello è il padiglione da Playstation dove alcuni youtuber vanno a fare dirette live dei game, però questa è un'altra storia, diciamo Raga, come avete visto qua, sta pieno di gente, tutta Ambriaca, compreso me stesso infatti qua ci stanno quelli che stanno a ballare, ragazzi, tiè, tiè ragazzi Ma che cazzo sta a fare questo? Vabbè, ragazzi, vabbè Questi qua ci stanno, questi con i cappelli, così Ma vuoi mettere? Ok Raga, ma quanti ve li siete scolati, raga? Allora, seguite The Motors The Motors, assolutamente Non è uno scherzo, è un pilota, seguitelo È un pilota di che? Di biciclette? Che sei? No, è da rally, è un pilota da rally È un pilota di rally Non è uno scherzo, sono serio Me coglioni, raga Lo dico, me coglioni Me coglioni C'è sta pure Tony Stark Abbiamo appena spinto delle persone, quindi state attenti Oh, ma quante drink vi siete scolati stasera, zi? Poveri, io bevo acqua Tony Stark beve solo acqua a bere Adesso costa di più del vino E invece il Dottor Strano Acqua casata, acqua casata Acqua casata Mi piacciono le bolle Mi piacciono le bolle Pure la sera a Piazza Anfiteatro Stanno i cosplayer I cosplayer Aspetta, non si regge I cosplayer Perché hai la mazza illuminata? La mazza illuminata Perché la mazza standard non è bella Senti, ma quanti te ne sei scolati stasera, zi? Eh, almeno 3-4 mazze illuminate 3-4 mazze illuminate? Se sei fatto, bravo Fa vedere la mazza come C'ha la mazza lunga, zi C'ha la mazza lunga, questo E guarda che a Piazza Anfiteatro C'è sta pure il cornuto C'è sta il cornuto Ma chi ti ha messo il corn, zi? Non dirlo così, veramente C'è stata la cosa, zi? Senti, ma quanti te ne sei bevuti stasera, zi? Non so, ha perso il conto Ha perso il conto Ha perso il conto I sciottini ti sei fatti? No, però Cocktail, birre Cocktail, birre Cocktail, birre Cocktail, birre Cocktail, birre E quindi ragazzi Come avete visto qua c'è stata tutta gente Embriaca Compreso il sottoscritto E qua c'è stiamo tutti Embriaca così Diciamo Io sto un po' Un po' allegro Diciamo Sto un po' Allegro Alticcio E vi saluto Col padiglione Ed è qua dietro Da Playstation Che boh Fanno i diretti Ragazzi Non ci ho capito un cazzo Che stanno a fa' Noi ragazzi Ci vediamo al prossimo video Dove vi faccio vedere Le interviste Dove spero anche Di stare Meglio Da come sto ora Noi ragazzi Ci vediamo al prossimo video Mi raccomando Zii Iscrivetevi al canale Iscrivetevi al canale